Che bel sorriso! Il laboratorio, capitolo 2. Ottanta monete! Visto così, mi sa tanto di percorso con la tartaruga. Mi sa tanto di percorso di caduta con la tartaruga. Cacchio. È sicuramente la discesa con la tartaruga. Dai, è il palese. È la scena in cui scappano dalle guardie, secondo me. Non può essere altrimenti, perché è un percorso simile. Ce l'hai fatta! Come sei arrivato così in fretta? In fondo al pozzo c'era una scala mobile. C'è il sentiero! Figurarsi. Beh. Tieni, prova questa nuova pozione. Lo sapete come... No, ancora. Non arriverai mai in tempo alla porta. Dovrò portarti in braccio. E sta, tartarughe ne arrivo! Ma sembra Leon! Ma perché ci sono ste farfalle in giro? Scappa, Cusco! Ma più di così, non vado? Questa è la mia... Scusami. Ora resta qui. Ma questa è la mia massima velocità? No, scusa. Perché non va? Scardate. Boh, vabbè. Per qualche motivo ho dovuto usare... Gli analogici e non... E non gli stick. No! Ok, 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 dai, 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 dai. Di qua. Sicuramente... Ecco. C'è una zona... Una zona segreta. Più di una zona segreta. Che ti dirà di andare... Tipo a destra invece che andare a sinistra. Robbe simili. Ah, non mi toccare! Lo sapevo! Krunk! Vai via! Oddio mio, che rischio! No! Mancata una moneta! Beh dai, per essere la prima volta che faccio questo livello... E... Sarebbe stato... Quasi assurdo il contrario. Le monete d'oro. No, l'ho mancata. Lo immaginavo che avrei perso delle monete. Non mi aspettavo cinque minuti di video. No. Grazie a tutti